super life oggi parliamo di sufismo sufi tanto puoi trovare fa parte della della branchia del l'islam che poi è un anche qua la religione una filosofia bellissima rispetto a quello che normalmente siamo abituati a vedere o siamo abituati ad ascoltare o magari vediamo dei film che ci indottrinano modo completamente sbagliato tanto i sufi deriva da safa che vuol dire purezza i sufi sono puri per questo se chiedi a 11 se è un sufi non sentirete mai dire di sì perché chi lo è per modi è per modestia non lo dice suf vuol dire anche lana i sufi dei primi secoli erano asceti che vivevano nei deserti vestiti di una lunga tunica di lana e c'è questa preghiera bellissima che fa parte sempre della dell'islam e poi ci sono tante altre comunque volevo intanto poi anche qua vedi c'è qualcosa che ritorna così come le altre preghiere così come altre 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 prostrazioni cioè comunque c'è sempre un si comincia ponendo l'intenzione di compiere la preghiera per in questo caso per alla e poi portando le mani in altezza delle orecchie si dice all'akbar alla il più grande però di là non entriamo nel 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 concetto cioè qua siamo questa pagina perché ormai abbiamo capito che possiamo parlare di queste cose in modo libero aperto poi ovviamente se ti piace questo argomento io non sono la persona più adeguata che ti può parlare di questa religione però almeno abbiamo un'informazione in più e iniziamo a capire che i dati che ci riportano non sono sempre del tutto così reali poi si portano le mani sopra l'ombelico la destra sopra la sinistra in silenzio si recita questa questa preghiera poi ovviamente poi ci sono altri rituali però quello per per dirti che cosa per dirti che anche qua c'è un'azione fisica un'intenzione e poi e poi c'è questa questa preghiera dice nel nome di dio il misericordioso il compassionevole mi si è aperto un video lo ripeto nel nome di dio il misericordioso il compassionevole la lode ad alla signore dei mondi il compassionevole il misericordioso re del giorno del giudizio te ne adoriamo e te ne chiediamo aiuto guidaci sulla retta via la via di coloro che ha che hai colmato di grazia non di coloro che sono in corsi nella tua ira né degli sviati e poi si recitano tre almeno tre volte aiat che da qualsiasi sura del sacro corano ad esempio poi vabbè e queste sono parole in arabo comunque il puro il puro alla il compassionevole il compassionevole il misericordioso e alla è l'unico alla è l'assoluto non ha generato e non è stato generato e nessuno uguale a lui ok sia gloria a te o mio signore tre volte ritornando nella posizione retta si recita alla ascolta chi lo loda in posizione retta o signore lode a te sia gloria al mio signore altissimo al akbar ci alza e poi anche lì bisogna fare un gesto insomma è un po è ovviamente un po lunga ma è bellissima è bellissima perché ti fa capire che entri in una intanto in una vibrazione che è collegata all'universo collegata a qualcosa che è che va al di sopra del del pensiero poi ovviamente se vai sul sito sufi punto it trovi tante tante spiegazioni ok volevo giusto portarti un un punto un punto diverso punto diversi sono anche delle bellissime parabole questa uno zoppo entrò un giorno in un serraglio che sarebbe la taverna e andò a sedersi accanto a un viaggiatore non arriverò mai in tempo al banchetto del sultano sospirò perché la mia infermità mi impedisce di essere più veloce l'altro alzò la testa anch'io sono stato invitato ma il mio stato è peggiore del tuo sono cieco non posso vedere la strada benché anch'io sia stato invitato un terzo uomo che aveva sorpreso la loro conversazione si intromise dicendo se solo vi rendeste conto che voi due insieme avete i mezzi per raggiungere la vostra destinazione il cieco può camminare con lo zoppo sulle spalle potete usare le gambe del cieco e gli occhi dello zoppo per dirigervi e fu così che entrambi poterano giungere al termine della strada dove la festa li atteneva li attendeva tuttavia per la strada si erano fermati in un altro serraglio per riposarsi un po avevano spiegato la loro situazione ad altri due uomini che si erano seduti lì sconsolati uno era sordo e l'altro era muto erano stati entrambi invitati alla festa il muto aveva sentito che si trovava nell'impossibilità di trasmettere l'invito al suo amico sordo questi poteva parlare ma non aveva nulla da dire nessuno dei due arriverò arrivò mai al banchetto perché questa volta non c'era un terzo uomo per spiegare loro che c'era una difficoltà e tanto meno come avrebbero potuto risolverla questo è anche qua per farti capire che non possiamo fare tutte le cose da soli abbiamo bisogno e la necessità di sapere sapere quando è il momento di poter chiedere aiuto e supporto un'altra persona quando magari la nostra energia la nostra consapevolezza la nostra mente i nostri pensieri le nostre parole le nostre azioni non riescono a raggiungere quello che è più importante per noi allora magari alzare il telefono inviare una mail fare una sessione chiamare un terapeuta chiamare un consulente ti permette di avere un punto di vista differente rispetto a tante altre persone che rimangono lì intrappolata nei loro pensieri e dal momento in cui dentro di te senti il desiderio di cambiare la persona giusta ti arriva la persona giusta ti arriva ma devi essere in una fiduciosa attesa ok bene ieri ci siamo divulgati molto nella nelle parole per quanto riguarda il concetto di responsabilità oggi entra un po di più nello specifico della preghiera preghiera uguale intenzione preghiera uguale aprire un cerchio preghiera uguale portare armonia nella nostra vita questo è un po lo scopo di tutto questo percorso che stiamo facendo insieme fai un bel respiro profondo e ancora un altro respiro profondo trattieni l'aria per qualche istante poi butta fuori lentamente tutta l'aria prendi un altro respiro profondo trattieni per qualche istante e mentre trattieni immagina che ci sia una luce bianca che entra nella parte più alta della testa e poi butta fuori tutta l'aria che hai nei polmoni nello stomaco e ora immagina che questa luce possa iniziare a creare un cerchio di luce prima dentro di te quindi prendi l'aria dal tuo naso immagina che ci sia della luce entra giù in profondità nel cuore nello stomaco e poi esce dal tuo ombelico e ritorna nel tuo naso come se si formasse un cerchio luminoso di una luce che entra nel tuo corpo entra e esce entra e esce e ora con calma con tranquillità porta la mano sul tuo petto in modo tale che questa energia possa entrare completamente in tutto il tuo corpo e ora ti chiedo di portare questa energia dal tuo cuore in cuore in cuore in tutte le persone che sono collegate in questo momento in questo cerchio in questo istante immagina che siamo un gruppo importante di persone illuminate e questa luce arriva da un pianeta da un cosmo da un nuovo progetto di vita e ora porta l'intenzione a questo gruppo di creare guarigione di amplificare la vitalità di amplificare le intuizioni la gioia il benessere di amplificare queste vibrazioni positive che iniziano a girare dentro di noi nella nostra vita nel nostro momento nel nostro istante è come se queste vibrazioni potessero espandersi sempre di più dall'ambiente circostante con l'ambiente dove sei in questo momento e arriva ad espandersi in tutta la tua regione in tutta la tua nazione fino a espandersi all'intero pianeta all'intero universo e così tutti i colleghi a questo pianeta ti permette di vibrare con una luce diversa con intensità diversa e ripeti dentro di te io sono io mi merito io guido la mia vita per creare ciò che è importante per me io sono la forza io sono la luce che sono la via io sono la saggezza lascia che possano emergere delle parole giuste per te bene espandi 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 questa vibrazione e ancora una volta porta l'intenzione su dove veramente senti che ne hai bisogno bene ok quando vuoi adesso apri gli occhi e se hai questa energia dentro di te puoi iniziare a scrivere qualcosa che è emerso qualcosa che è d'aiuto qualche intuizione bene a domani buon pomeriggio e buona giornata o comunque tante tante belle cose positive bene a domani